Google continua a rilasciare soluzioni di intelligenza artificiale molto interessanti. A parte Gemini, che peraltro sta gradualmente recuperando terreno nei confronti di ChatGPT, uno spazio molto interessante da tenere d'occhio è il Google Labs, la piattaforma che permette di sperimentare progetti sviluppati da Google in ambito AI. Google Labs è un'area di innovazione e creatività che offre agli utenti la possibilità di testare in anteprima nuovi strumenti, contribuendo poi con i propri feedback a migliorare e perfezionare le applicazioni rilasciate in prova. Tra i vari modelli troviamo Foodmood, di cui ho parlato in uno short, e qui approfondisco un po' quello che abbiamo detto in breve. Un progetto quindi che utilizza l'intelligenza artificiale per miscelare piatti e ingredienti e creare ricette straordinarie, multiculturali. Si può scegliere per quante persone cucinare, se cimentarsi in un antipasto, una zuppa, un piatto principale, un dessert, selezionando due paesi diversi dai quali trarre ispirazione per creare una fusione culinaria unica. Si può anche selezionare una preferenza dietetica tra le opzioni fornite e includere ingredienti specifici a scelta. Ipotizziamo in questo caso, di prova che vi faccio vedere, di voler creare un dessert che sia un misto tra gastronomia albanese e francese. Diamo come indicazione anche l'obbligatorietà di inserire come ingrediente l'arancia. Ecco che Foodmood crea la ricetta, mi spiega la preparazione e presenta addirittura un'immagine di come sarà il piatto. Queste innovazioni rappresentano solo la punta dell'iceberg, del vasto mare delle potenzialità dell'intelligenza artificiale applicate anche al mondo della gastronomia. Immaginate un ristorante dove ogni piatto viene creato su misura per i gusti e le esigenze dietetiche di ogni singolo cliente con un'intelligenza artificiale che analizza le preferenze, suggerisce combinazioni di ingredienti mai sperimentate prima. Pensate a menù che cambiano quotidianamente, basati su ciò che è fresche di stagione, ottimizzati per il massimo gusto e valore nutrizionale. Con le AI gli chef possono aprire nuove frontiere culinarie, creando esperienze gastronomiche personalizzate che non solo soddisfino il palato ma anche promuovano la salute e il benessere. Per non dire della riduzione degli sprechi alimentari con suggerimenti sull'uso creativo degli ingredienti in eccesso e per una cucina più sostenibile. A proposito di chef e intelligenza artificiale non possiamo non citare IBM Watson, utilizzato per creare nuove ricette combinando ingredienti in modi innovativi. Utilizzando enormi database di ricette e conoscenze culinarie, Watson suggerisce combinazioni di sapori uniche e spesso inaspettate, stimolando la creatività degli chef e offrendo nuove esperienze gastronomiche ai clienti. Ma se vogliamo iniziare a sperimentare l'AI in cucina colleghiamoci con il Google Labs e proviamo in tutta semplicità Foodmood. Scrivetevi nei commenti la vostra esperienza e non dimenticate di iscrivervi al canale.